Buonasera e benvenuti ad un altro episodio di Municipio X. Oggi parliamo di un argomento che potrebbe anche sembrare strano, effettivamente è disueto parlare di argomenti del genere in un programma che va in onda alle 7. Però oggi la mia redazione mi ha portato questo ospite, un ospite unico, non tanto perché è unico lui, ma perché a Milano nel 2019 ancora queste sono realtà uniche. Ciao, innanzitutto chi sei? Io sono Leonardo Miranda, sono organizzatore della comunità poliamorosa milanese, nonché attivista della stessa comunità, quindi attivista del poliamore posso dire è poliamoroso, cioè persona che si identifica come poliamoroso. Quindi cominciamo a dare un paio di definizioni chiare, che cos'è il poliamore? Quindi il poliamore è l'apertura alla possibilità di avere più relazioni romantiche allo stesso tempo, contemporaneamente, con il consenso di tutti e con la consapevolezza di tutti, quindi non solo devono sapere che stanno essendoci altre relazioni, devono essere anche d'accordo, non puoi solo dirle se stanno avendo altre relazioni, ma sono cavoli vostri. Deve esserci il consenso e la consapevolezza. E teniamo ogni tanto a dire che è la possibilità, quindi non c'è neanche l'obbligo, è semplicemente questa apertura a conoscere altre persone oltre alla propria copia romantica e stabilire ulteriori relazioni che possono essere romantiche, che possono essere sessuali, che possono essere tutti e due, che possono essere tutto quello che, diciamo, esce un po' dalla monogamia perché non necessariamente è una cosa stabilita, diciamo, deve essere così o cosà, ma tipi di relazione che non ci possono essere nella monogamia, dove nel momento nel quale c'è un partner romantico, la possibilità di qualsiasi altre cose romantiche vengono escluse, ci possono solo essere amici. Il poliamore, diciamo, che non si ferma a questa possibilità, ma apre anche la possibilità di avere più partner. Quindi il poliamore si crea in un ambiente di assoluta consapevolezza e bilateralità nella possibilità di avere relazioni e di consapevolezza di altre relazioni. Sì, consapevolezza. Quando dici bilateralità potrei chiedermi, ah, vuol dire che se io ho altri partner, anche tu devi avere altre partner. Ah, giusto. E non c'è un obbligo per nessuno di dover avere uno o più o quello che sia. Semplicemente io sono in relazione con questa persona, siamo aperti alla possibilità di avere altre relazioni, possiamo avere altre relazioni sia io che l'altra persona. Anzi, ci sono anche casi di persone che dicono io sono insieme a te, io non sento il bisogno di avere altri partner, però accetto che tu li abbia. Quindi diciamo che io rimango tra virgolette monogamo perché, dico tra virgolette perché ogni tanto monogamia si intenderebbe non solo io, non ho altri, ma tu non puoi avere altri, ma in questo caso semplicemente rimango solo io con il partner che ho, però accetto perfettamente che il mio partner abbia altri partner, ovvero che intrattenga relazioni poliamorose. E tu sei l'organizzatore della comunità? Sono uno degli organizzatori. Uno degli organizzatori? Ce ne sono di più, ma è abbastanza. E sostanzialmente, cioè ovviamente sorgono delle domande intanto come mai c'è una comunità. E che cos'è la comunità? E che cos'è, nel senso cosa fa la comunità? Che è anche una delle domande che la gente più spesso si fa. Quindi, la situazione del poliamore in Italia è sì strana, nel senso che probabilmente la maggioranza delle persone che conosciamo non hanno un amico poliamoroso, il amico poliamoroso. E quindi, e anche tanta altra gente, tuttora non ne ha mai sentito parlare, pure se negli ultimi cinque anni mi sembra sta, diciamo, andando tantissimo sulle news, si parla continuamente, ancora come una cosa sfiziosa, ah, poliamore, sbarca poliamore, dettormentone, eccetera, eccetera. Qualcosa di esotico. Esatto, esatto. E infatti, diciamo che sicuramente negli ultimi cinque anni ha avuto quel ruolo esotico e quindi per quello se ne parlava e per quello se ne parlava anche più su Vice che non sul Corriere della Sera, cioè più su Testate che erano più mirate, sulle cose esotiche, esattamente. Adesso vediamo un po' un calo, quindi siamo rincuorati da questo. Perché effettivamente noi non lo vediamo come una cosa esotica, ci interesserebbe che fosse una cosa semplicemente nella stessa maniera nella quale c'è gente che è eterosessuale, c'è gente che è omosessuale, bisessuale, assessuale, ci sono persone che sono poliamorose. Sfortunatamente questo non è il caso, nel senso rimaniamo ancora come una cosa piuttosto di minoranza, di nicchia e come tale, prima o poi si scopre, nel momento nel quale si è poliamoroso, cosa succede quando suggerisci a una persona che si identifica come monogama la possibilità di intrattenere delle relazioni poliamorose. Se no ti lancia qualcosa in testa, ti è già andata bene e nel caso siete già insieme. Se state ancora sul dating, sicuramente quella non ti richiama o quella non ti richiama. Quindi davanti a questa realtà, ovviamente abbiamo detto ok, secondo me, cioè secondo noi serve avere uno spazio in cui sia possibile trovare altre persone che la pensano alla stessa maniera. E questo spazio ha tante utilità, oltre semplicemente al dire ah è il posto dove vi ritrovate per provarci tra di voi. No, non solo, chiaramente anche questo succede, ma in maniera molto più importante è lo spazio in cui tu vai consapevole del fatto che questa mentalità ti può anche far escludere da altri spazi o far guardare strano da altra gente e ti trovi invece in uno spazio dove tutti la pensano come te e quindi è la più grossa gioia e prima o poi anche la più grossa noia è il fatto che nella comunità poliamorosa addirittura si parla poco di poliamore. Perché tutti la pensiamo nella stessa maniera, quindi già non è il tema che ah ma anche tu, eh anche tu. No, in realtà semplicemente sappiamo che tutti abbiamo una concezione più o meno simile in riguardo alle relazioni e i spazi dove effettivamente ci ritroviamo per l'aperitivo piuttosto che sono dei normali aperitivi dove si parla del più o del meno. Con questa peculiarità il fatto che ehm tra di noi sappiamo che abbiamo uno stile relazionale di questa maniera quindi ehm infatti ci capita ogni tanto che degli amici portano altri amici e questi altri amici non sanno in che posto stanno andando nel senso non sanno quella della peculiarità di un aperitivo per esempio che è l'evento più ricorrente della comunità poliamorosa e quindi noi come organizzatore dobbiamo prenderci la sbriga e dire vabbè ma lo sai cos'è il poliamore? Sai dove ti hanno portato? Eh altrimenti non non gli sembrerebbe che ci fosse niente di strano tra la gente che vedono intorno a loro sono gente di tantissimi cioè di tantissimi stili di vita diversi e completamente normali da il imprenditore avvocato all'artista al disoccupato ahimè ehm se non fosse che potrebbe succedere che si veda che qualcuno arriva con una ragazza e poi invece arriva la sua altra ragazza o il suo altro ragazzo e quindi sarebbe il momento di dire un attimo forse qualcosa qui non è esattamente quello che mi aspettavo ehm quindi eh l'aperitivo è l'evento più ricorrente della comunità come dicevo ed è anche eh lo spazio di primo accesso diciamo è dove raccomandiamo di andare quando non si sa niente del poliamore si vuole solo capire qual è il concetto e se se fa il caso per la persona e mh dalla stessa dalla stessa organizzazione da da noi stessi organizzatori arrivano anche altre altri eventi dove invece parliamo dove invece ci eh incontriamo in posti che non sono un bar o un caffè o cioè nel senso più eh tranquilli una palestra quello che sia e eh parliamo di tutte le possibili problematiche del poliamore perché dal momento nel quale la stragrande maggioranza di noi come immagino te eh siamo cresciuti non solo in un intorno dove la monogamia è la maniera di fare le relazioni seria la unica maniera di fare che le relazioni durino nel senso la vera relazione che sia perché la disney o perché i film di amore o eccetera eccetera ehm cresciamo quindi assorbendo questo intorno culturale tutti noi anche siamo cresciuti eh pensando queste cose e assorbendo questi input dalla cultura cioè anch'io da piccolo vedevo le storie disney volevo un giorno dare a una donna tutto quello che si merita quel mio lavoro eccetera eccetera fare il breadwinner quel che e queste cose ce le portiamo dietro anche quando dopo pensiamo sulla cosa vediamo che forse qualcosa non esattamente non la sentiamo come ci aspettiamo di sentirla o gli altri sentono che la maniera nella quale ci rapportiamo con loro non è quella che si aspettano ci rendiamo conto che forse qualcosa non va o semplicemente approdiamo su questa parolina poliamore cosa vuol dire poliamore e comprendiamo questa maniera di essere e l'accettiamo cioè ci interessa come una cosa che a noi eh attinente a noi ma comunque ci ci portiamo dietro queste 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 dinamiche no e queste maniere di pensare le relazioni queste maniere di pensare l'amore e allora ci capita comunque che all'interno di relazioni che sono strutturate in maniera diversa hm ci troviamo ogni tanto essere possessivi o essere provare gelosia agire sulla gelosia nella maniera classica e quindi dire eh se io sono geloso è colpa tua perché tu stai facendo queste cose che mi fanno ingelosire hm eccetera eccetera e quindi ehm risulta per questo importante per la comunità dare anche questi spazi dove riusciamo a parlare di queste cose e a cercare di capirle in una maniera diversa comprenderle seguendo questo nuovo o diverso stile relazionale e infatti in questo momento abbiamo la la grossa fortuna di avere dei dei collaboratori nella comunità che sono di fatto psicologi e che eh gestiscono questi spazi dove si parla del delle problematiche e vabbè fanno non dirò non dirò terapia di gruppo insomma seguono ci seguono nel cercare di capire tra di noi cosa stiamo provando e come questo che stiamo provando ci ci dà disagio quindi essenzialmente normalizzate l'idea di poliamore levando le esoticità ritornando al posto comune all'aperitivo al al punto di ritrovo assolutamente sono sicuro che di tutta la gente che arriva nella comunità nel senso tutta la gente che approda anche fisicamente ma anche online perché abbiamo gruppi facebook e così ehm c'è una c'è una percentuale importante di persone che arrivano solo per curiosità e per quel senso dell'esotico ah ma questi e quindi cosa fanno e bevono e mangiano come le persone normali bevono e mangiano come le persone normali e parlano anche di cose noiose nel senso non necessariamente abbiamo neanche chissà che temi di superazione personale però c'è anche un effetto interessante perché gente che si avvicina anche solo per curiosità e che poi capisce comunque che vabbè il poliamore interessante ma non fa per me li rimane qualcosa perché la comunità siccome è fatta di tutta questa gente che deve relazionarsi in maniera diversa allo scopo di riuscire a relazionarci in questa maniera diversa dobbiamo un po' scervelarci continuamente nel senso pensare a come pensiamo l'amore cosa proviamo in particolare cosa proviamo e anche essere in grado di comunicare questa cosa che proviamo al partner o ai partner in maniera di poter gestire le cose quindi infatti spesso la gente che arriva la comunità mi dice ma così non riesco a gestire un partner poi due mi sembra ancora più difficile e sì sì cioè sì è più difficile gestire più relazioni se sono relazioni che contengono veramente emozioni forti e legami romantici forti saranno più difficili da gestire e la comunità in questo in questo momento storico nel 2019 ha questi luoghi di ritrovo a questi aperitivi e poi a questi momenti di esplorazione possiamo chiamarle così raffinamento esplorazione luogo di esplorazione in certi ambiti sembra che ci staremo a tocchicciare tra di noi quindi non posso usare quel termine però è sicuramente di esplorazione interna bisogna spiegarlo agli spettatori quindi usiamo le parole assolutamente quindi sicuramente cioè questi luoghi di discussione mi piace molto di più perché appunto cercare di capire quello che proviamo e metterlo in parole e discutere tra di noi perché se c'è una cosa che abbiamo capito finora è che quando cresciamo ci danno una formula questa è la formula monogamia ti permetterà di essere felice per sempre con una persona che amerai totalmente se ti interessi già un'altra persona possibilmente già non ami la prima quindi la devi lasciare bla 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 ok questa formula noi nel momento nel quale diciamo ok sembra che non faccia per me ci troviamo senza niente non c'è più una guida non c'è più una mappa non c'è più i film di disney che mi facciano capire cosa dovrei fare adesso e allora noi non siamo in grado di sostituire questa guida non possiamo dare delle risposte o delle guide nuove o pratiche o i dieci passi per diventare poi l'amoroso con successo e quindi non ci resta che tra di noi sentire gli altri e cercare di capire come stanno facendo loro anche nelle loro relazioni come stanno gestendo i loro problemi per vedere se riusciamo imparare qualcosa e tentate di ricostruire la narrativa dopo che vi siete elevati quella della disney costruire le narrative nuove sì nel senso sì cioè sicuramente ci rimane una narrativa che quella dell'amore nel senso sì è chiaro che ci amiamo però che cos'è l'amore però esatto come come potrà funzionare l'amore in questa dinamica è la domanda la cui cerchiamo di dare una risposta la comunità in senso concettuale quando nasce in italia direi che sei anni fa però io non sono molto bravo con i con i con le date nel senso tu mi dici a questo è successo due settimane fa no è successo quattro mesi fa scusate quindi sicuramente circa sei anni fa io non so quando c'è il primo gruppo facebook quindi la prima comunità digitale dove tu entravi questo gruppo e dicevano benvenuto qui si parla di poliamore questo non so quando sia nato sicuramente circa cinque anni fa cominciano esserci le comunità dal vivo fisiche quindi dove tu vai in un posto trovi un altro essere umano davanti a te che ti dice io la penso come te ed è un momento che tra l'altro un momento bellissimo perché fino a quel momento ti chiedi se sei tu da da legare matto da legare e da lì cominciano nei posti nelle città più grosse quindi milano roma torino e si espandono e si contraggono ogni tanto quindi ogni tanto nelle nella propria città ce ne sarà una e ogni tanto no per esempio questo momento a padova c'è una comunità ed è da da di lunga data a bologna ogni tanto c'è una comunità ogni tanto non c'è e quindi questa che ci parla anche un po' del fatto che effettivamente o è già talmente normale che possiamo semplicemente andare avanti nella nostra vita normale conoscere persone nei soliti posti e loro ci diranno di essere poliamorosi e quindi non vedremo la necessità di una comunità oppure in tanti posti non c'è ancora neanche la libertà di dire ok io mi sento così io voglio questo delle relazioni cerco altre persone uguali il fattore culturale comunque sta alla base delle narrative che pesa uno cioè uno del questo fattore culturale dove arriva arriva sicuramente dintorno a noi ma arriva anche delle persone che vogliamo bene i nostri genitori per esempio la gente che ci conosce quindi uno dei grossi temi per esempio di discussione rimane coming out cioè dillo ai tuoi sembra sembra strano alla nonna sì infatti è comunque è identico al coming out non è identico scusa si assomiglia tanto al coming out delle persone lgbt ovvero io mi sento in questa maniera ma mi rendo conto che non solo sono diverso dalle altre ma possibilmente una cosa di cui vergognarsi e dipendendo il genere cioè dipendendo se sei uomo donna ti daranno delle bravi delle buonissime ragioni per cui vergognarti di essere poliamoroso cioè se tu sei un uomo e hai tanti coppie non hai da vergognarti sei un grande e dovresti vantartene perché il fattore culturale il fattore culturale è macio infatti esatto invece sei una donna sei una niente di buono eccetera facile e quindi queste sono anche battaglie che sono inevitabili da parte della comunità poliamorosa perché arrivando così alla comunità non ci si può stare non la cosa non può funzionare e quindi che va bene è un già un ambito politico però che ha delle repercussioni anche dentro cioè emozionali per ognuno di noi e quindi anche questo richiede di conseguenza di riuscire a fare la pace prima con se stessi ma poi anche con i genitori gli amici dipendendo quanto si vuole essere pubblico sulla cosa tu hai usato la parola politico però non è politico schierato politicamente quanto che concerne l'utilità pubblica no certo nel senso ovvero capisco politica semplicemente come il desiderio di far cambiare qualcosa a livelli più alti no nel senso legislativo sociale che concerne la polis che esatto ma tutti c'è una cosa più ampia di non solo il nostro gruppetto e quindi la sezione burocratica come ci sono messi quindi per tanti di noi abbiamo trovato questo piccolo ritrovo questo spazio e siamo a posto così perché tanto non verremo mai pestati per strada perché si venga a sapere che siamo poliamorosi che invece una cosa di cui la comunità LGBT è un problema che la comunità LGBT può incontrare quindi davanti a questa sicurezza sicuramente non abbiamo lo stesso bisogno di riconoscimento a tutti i livelli per esempio a livello burocratico legale eccetera è anche vero che nel momento nel quale qualcuno di noi vorrebbe anche tornare o non ha mai voluto scostarsi dalla idea di famiglia più tradizionale e io voglio il matrimonio o avere figli o che i miei figli a sua volta avevano figli eccetera e avere i nipoti e romperli perché facciano i nipoti questa cosa richiede effettivamente delle modifiche alla legislazione e in questo momento in Italia non ci sono i numeri di individui della comunità che siano interessati a questi abbastanza da fare pressione da fare gruppi più ampi di attivismo vero e proprio attivismo politico che vada verso la legislazione questo non è il caso in altri posti del mondo nel senso ci sono realtà in paesi anglosassoni in Canada o negli Stati Uniti che invece stanno attivamente cercando di poter espandere la figura del matrimonio per esempio a più partner oppure di espandere la figura della paternità legale a più persone in maniera di potersi anche tutelare in Italia invece di quello che ho visto io la cosa si gestisce comunque tra di noi diciamo perché comunque non c'è una vera propria problematica da risolvere è una cosa che non posso assolutamente rispondere personalmente perché io non ho figli e non ho neanche il piano di avere figli le persone che hanno figli all'interno della comunità poliamorosa intanto non necessariamente sono in una posizione in questo momento dei loro partner romantici da chiedersi ok vorrei che anche lui insieme a me o lei insieme a me cresca questi figli vorrei che abbia anche poteri legali di poterle raccogliere alla scuola piuttosto che poterle accudire se finiscono in ospedale o se io non posso o se io dovessi mancare tutte queste domande mi sembra che si cominciano a fare ma che non sono molto comuni quindi di conseguenza la cosa appunto non spunta ancora detto ciò è chiaramente nel momento in cui i legami affettivi crescono e c'è di mezzo anche delle persone a tuo carico, figli prima o poi i legami affettivi includono i figli e quindi le domande le cominciamo a farcene io in questo momento non so quanto sia difficile per i genitori anche divorziati che stanno intralazzando relazioni plurime con altre persone di far sì che queste persone possano avere voce in capitolo dei loro figli è un tema su cui non mi sono specializzato sicuramente in base a questa difficoltà viene fuori subito il bisogno o di cercare appunto attivismo più forte o di poter semplicemente gestirlo tutto personalmente io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato abbiamo finito il tempo a nostra disposizione ringrazio anche i nostri spettatori che ci hanno seguito ci vediamo al prossimo episodio di Municipio X che condurrò io ma a quanto pare la mia collega Francesca si sta prendendo tutti gli episodi migliori tranne questo qua abbiamo finito e alla prossima puntata di Municipio X